Ciao a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video, io sono Valeria e oggi dedicherò questo piccolo spazio ai miei preferiti del periodo. Mi sono resa conto che in realtà non parlavamo di robe preferite da una vita. Qui su Readblog Repit ho voluto mettere insieme un po' di oggetti che effettivamente mi stanno rendendo molto felice ultimamente o che mi stanno aiutando nella mia nuova vita. Detto questo direi di partire immediatamente. Partirei in realtà come faccio sempre all'interno di tutti i miei video dei preferiti con gli eventi, ma mi sembra un po' sciocco. Perché ovviamente tutti vi aspettate che io parli del mio trasferimento a Milano ed effettivamente non potrei pensare a nessun altro evento che non sia questo. Questo perché è stato un cambiamento di vita allucinante da subire che ha assorbito completamente tutte quelle che sono state le mie energie, e i miei pensieri, il mio fisico, tutto della mia vita nell'ultimo mese è stato votato a questo trasferimento nella grande città a 1500 km da dove vivevo prima. Non mi addentrerò particolarmente nell'argomento perché mi piacerebbe tantissimo dedicargli un intero Q&A la settimana prossima. Sicuramente vi lascerò il box domanda nelle Insta Stories di Instagram, dunque se non mi seguite su Instagram sono readblogrepeat anche lì. Ma ovviamente evento del mese, sono a Milano. Per quanto riguarda i libri, allora io non ho fatto grandi annunci su Instagram o in video, ma di recente ho finito lui. E fra l'altro gli ho anche rovinato la copertina, ma non ci posso fare niente, sono stato un deficiente. Lui, in ogni caso, è L'amore molesto, scritto da Elena Ferrante ed edito da Edizioni O al prezzo di 11,90€. Non c'è bisogno che io vi parli del mio amore nei confronti della Ferrante, non c'è veramente bisogno che io lo faccia. E sono anche indecisa se dedicare un intero video a questo libro, magari ogni GTV, effettivamente potrei dedicarli oppure no. Vedremo in futuro perché ho la sensazione che un video sul riassunto delle letture dell'ultimo periodo arriverà parecchio tardi su questi canali e io scalpito all'idea di parlarvi di lui. La Ferrante è il grande amore della mia vita e visto che praticamente mi mancano solo due suoi libri per leggerne l'intera bibliografia, a meno che non escano, nuove uscite, io ho deciso di tenermene uno all'anno. Dunque, a meno che la Ferrante non pubblichi nulla di nuovo, questo è il mio titolo del 2021. È stato il suo romanzo d'esordio e segue le avventure della nostra protagonista che viene a patti con la figura materna. La madre della protagonista muore in circostanze estremamente sospette, lei deve tornare al paese per il funerale, per l'esequie e deve fare anche i conti con il proprio passato e soprattutto con tutto quello che ha tentato di dimenticare e di lasciarsi alle spalle. Iniziere vuol dire che non è il mio Ferrante preferito. Il mio Ferrante preferito rimane, i giorni dell'abbandono, comunque troverete entrambi i libri linkati, nell'infobox e quello per me rimane inarrivabile. Subito dopo c'è la quadrilogia dell'amica geniale. Ma l'ho amato tanto, ma veramente tanto tanto tanto, perché ho visto tra queste pagine i germogli di tutta quella che sarà la Ferrante dopo. È stato molto strano per me approcciarmi al suo romanzo d'esordio dopo aver letto praticamente tutto il resto. È come se avessi visto qui la Ferrante al suo stadio primordiale. I temi ci sono tutti, conflittualità con la figura materna, figura femminile, il dialetto, gli improperi. In dialetto le ambientazioni sono quelle, la voce interna, narrante della protagonista è sempre quella. Cioè, è come se io mi fossi ritrovata di fronte a tutti i grandi colonnati, ecco, che formano i palazzi immensi e geniali che sono i libri dell'autrice. Però effettivamente mi rendo conto che a livello di coinvolgimento, ecco, c'è stata una grandissima evoluzione fra questo romanzo e quelli che poi scriverà dopo. Io comunque me ne sono totalmente innamorata. Doveva finire qui e mi dispiace appunto di aver versato il caffè sulla copertina. Grande Valeria, ma buh. Li dà un tocco di originalità. Ora questa copertina è per forza solo la mia. Non abbiamo una serie tv o film del mese e in realtà qui chiedo aiuto a voi. Nel senso, è stato un periodo della mia vita talmente intenso e drenante a livello emotivo che io le rarissime volte in cui apro Netflix fondamentalmente metto su roba a caso. Giusto per avere rumore bianco, ecco, in sottofondo, magari mentre sto cucinando, mentre sto mangiando, lavo i piatti o pulisco casa. Giusto qualcosa che mi faccia compagnia, ecco. Perché altrimenti nei momenti in cui sono attiva mentalmente, anche quando sono a casa, sto preferendo leggere o preferisco scrivere, preferisco fare altro, ecco. piuttosto che guardare un film o stare davanti ad una serie tv, ma mi sta mancando appassionarmi veramente a qualcosa. Dunque, se avete serie tv nuovi o film appena usciti su Netflix, fatemelo sapere nei commenti che io ci do volentieri un'occhiata. In realtà al momento sto guardando l'estate in cui imparavamo a volare, penso sia quello il nome della serie, ma la sto guardando così, cioè per riempire un vuoto, per riempire un silenzio e non me la sentirei nemmeno di fare recensioni al momento. O riesco a capire se mi sta effettivamente piacendo tanto o la sto continuando solo perché quando apro il computer la sera ho già la schermata aperta, ecco. E altra cosa, non ho nemmeno un rossetto per la categoria rossetto del mese. Questo perché mi sarò truccata nell'ultimo mese cinque volte, praticamente, cioè tipo per girare video, per uscire un paio di volte. Questo è stato il mio rapporto col trucco nell'ultimo mese perché al momento sinceramente è l'ultimo dei miei problemi e dunque non posso darvi, non posso far vedere un tubettino colorato qui all'interno del video. E di passare allora a quelli che sono i preferiti random perché ne abbiamo più di qualcuno effettivamente. Io per questo video dei preferiti a Milano, il primo, ho voluto selezionare quello che davvero ha fatto una notevole differenza nella mia vita qui. O il fatto che appunto ho preso casa da sola e mi sono trasferito in una nuova città, ho cambiato completamente stile di vita perché ora vado in ufficio a scutti giorni eccetera eccetera, io di acquisti nell'ultimo mese ne ho fatti praticamente un triliardo. Non voglio nemmeno guardare l'estratto conto bancario, no. Non è una cosa che questo mese può essere fatta, però tante cose mi erano necessarie e sono state acquistate semplicemente perché mi servivano, quindi senza slancio d'euforia. Qualcos'altro è stato uno sfizio per rallegrarmi in un momento in cui magari ero un po' giù. Altre cose invece sono dimostrate essere una combinazione delle due cose, per cui mi guardo intorno e penso, caspiterina per fortuna che ti ho comprato perché altrimenti la mia esistenza sarebbe stata completamente diversa qui nell'ultimo mese e appunto ho tre oggetti in questa categoria. Direi di partire dal primo e secondo me dal più importante, ovvero il mio piumino. Non entrerà mai nell'inquadratura, ma io ho approfittato degli ultimi saldi di Zalando per prendere un piumino, questo qui ha detto mi figher, ma sinceramente la marca, insomma, non è che mi interessi. Ecco, l'ho pagato un terzo del suo prezzo originale e vi spiego quella è stata la storia. Io non ho mai avuto un piumino in vita mia, questo è il primo, è ora il mio migliore amico, che entra a far parte della mia esistenza. Io sono arrivata a Milano col cappotto di lana. Io amo il mio cappotto di lana, però mi rendevo conto di aver bisogno di altri capi spalla perché un cappotto solo non ce lo puoi avere. Dopo una settimana a Milano di pioggia, neve, sballottato da tutte le parti, ufficio, casa, eccetera, eccetera, io ho guardato il mio cappotto e ho pensato tu sarai morto nel giro dei altri dieci giorni. Il mio piano era di avere quel cappotto e poi di farmi mandare da mia madre in un pacco gli altri due che ho, però sono sempre in lana, sono sempre, ecco, dei capi un po' più elegantini da uscita, ecco, non sono dei capi effettivamente da battaglia. E gli ho pensato, ok, io fra una settimana non avrò più un cappotto, mi devo comprare un piumino, qualcosa che mi tenga effettivamente al caldo perché io stavo crepando di freddo nonostante il mio cappotto in lana sia in lana e volevo qualcosa che fosse impermeabile. Io ho sempre avuto una certa ritrosia nei confronti dei piumi, però ho detto va bene, vado suzzalando, vediamo che trovo, perché ne ho effettivamente bisogno. Voi non avete idea di quanto la mia vita sia cambiata da quando io ho lui. Ok, allora esteticamente, a parte che è un semplice coso nero, non è che sia la cosa più particolare del mondo, non è che mi faccia impazzire, non è che esalti le figure del mio corpo, ma questo affare è indistruttibile ed è la cosa più importante in assoluto, perché uno mi tiene caldissimo. Quando è arrivato ho avuto un attimo di panico perché in realtà non ho cercato in base alla marca o al prezzo, ho detto non me ne fregava niente, ho cercato in base al caldo dell'imbottitura, volevo qualcosa che effettivamente mi tenesse al caldo, perché vi giuro che tremavo. Io la prima settimana a Milano ho tremato e basta. Arriva e lo vedo così sottile e ho detto ok, qui c'è qualcosa che profondamente non va, questo coso non mi terrà mai al caldo. Invece a quanto pare l'imbottitura ha una tecnica particolare per cui riesce ad essere sottile, non è uno di quei bomber tipo piumone, ma io non sento niente. Ha nevicato, è successo qualsiasi cosa, ho preso una taglia M, se può essere di qualche interesse a qualcuno mi copre il sedere, perché il mio sedere ha freddo in inverno, le maniche fatte in questo modo quindi non passa aria dalle maniche, ha il cappuccio, io sono felice. Sono tornata a vivere, nel momento in cui ho smesso di avere freddo 24 ore su 24, io ho smesso di preoccuparmi costantemente del fatto che il mio cappotto potesse letteralmente cadermi addosso, rotto, per sempre. Mi sono rilassata, ho preso un grosso respiro ed è andato tutto più o meno al suo posto. Questo cappotto è stato l'inizio della fine del mio panico da trasferimento. E ok, anche se l'ho pagato un terzo del suo prezzo originale e comunque costato un sacco di soldi, ma probabilmente saranno i soldi meglio spesi della mia esistenza. Io veramente mi sono tranquillizzata a livello psicologico tantissimo dal momento in cui l'ho avuto. Altra cosa della quale necessitavo in maniera imbarazzante arrivata qui erano delle scarpe, perché voi dovete sapere che io ho solo un paio di stivali per l'inverno e poi ho solo scarpe da ginnastica in tela, questo perché ho sempre vissuto in climi in cui non pioveva costantemente, non nevicava e soprattutto non avevo un ufficio in cui andare, quindi insomma manco il bisogno di essere particolarmente formale, andavo dappertutto in sneakers, a meno che non uscissi la sera col tacco, i tacchi dimenticati, comunque dimenticati di vedere i read block pit in tacchi. Da quando vive a Milano ho iniziato a usare su base regolare l'unico paio di stivali che avevo e si è verificata più o meno la stessa situazione che si è verificata col cappotto, ci ho detto io questi stivali li perdo per strada se continuano ad usare solo loro. Su Zalano ne ho acquistati due, trovati in saldi pazzeschi, qui ve ne presento uno che è quello che sto usando di più e che mi piace veramente tantissimo e anche qui rappresenta una grossissima uscita dalla mia comfort zone perché di mio, vivendo in qualsiasi altra situazione, in qualsiasi altra città, non li avrei mai acquistati. E mi sono presa un paio di anfibi alti, cioè io non avrei mai 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 pensato di spendere dei soldi, comunque di desiderare di voler acquistare, mettetela come volete delle scarpe così, ma ora che ce le ho, penso brava Valeria, grazie a Dio hai deciso di fare questa cosa. Li ho presi talmente a caso, nel senso che volevo semplicemente un paio di anfibi che non ricordo nemmeno di che marca siano, aspettate che ve lo cerco. Ah, sono di Even & Dodge, ho già avuto secondo me qualche loro capo e solo che adesso non me lo ricordo, hanno comunque la cerniera, sul lato non sono in vera pelle perché questi qui li ho pagati veramente un'inezia, però sono molto comodi e se piove non mi entra acqua sul piede, le suole sono perfette per camminare su tutti i sanpietrini che Milano ha deciso di mettere sulla mia strada. Grazie. Milano, i lacci non si slacciano, non mi hanno fatto male ai piedi, non mi è successo assolutamente nulla, sono state comode dal primo indosso e quindi quasi tutti i giorni io ho loro e in realtà funzionano pseudo bene con quasi tutto il mio guardaroba. L'ultima cosa che mi ha effettivamente cambiato l'esistenza qui a Milano è stata lei. Con lei non vi dilungo perché le ho dedicato, ma come è bella fra l'altro oggi, un video, perdonatemi, io amo questa borsa e le ho dedicato un intero video che vi linko nelle schede, nell'infobox, il mio vozzime bag annuale e lei è la bit, la camera bag di coccinelle nella misura medium e nel colore foliage red. Lei al momento è la mia unica borsa che ho qui ad esclusione dello zaino ed è la mia borsa di Gucci con cui ho fatto lo stesso ragionamento che ho fatto col capotto e lo stesso ragionamento che ho fatto con lo stivale. Ho voluto acquistare una borsa che fosse da battaglia e che andasse bene sia per l'ufficio, infatti nel vozzime bag vedete il contenuto della borsa quando in ufficio sia che fosse abbastanza carina, ecco, d'essere usata anche quando sono nel mio tempo libero. Devo dire che per il momento io e lei stiamo diventando migliori amiche, cioè nel senso che la amo proprio tanto, probabilmente la mia migliore amica, qui a Milano e sono stati soldi splendidamente spesi perché mi sento molto più a mio agio, sono molto più organizzata, ecco da quando ce l'ho, io so che qui dentro ho tutto, cioè qualsiasi cosa mi serva nella mia vita in ufficio o fuori dall'ufficio, c'è lei, è molto comoda, è molto bella, per carità pesa una quintalata anche adesso a tenerla in mano, non sto pensando a pagare, ma perché vai in giro con tutta sta roba, ma mi è necessaria. Non la sostituirei con niente, effettivamente le voglio proprio bene. Volevo concludere questo video con un po' di frivolezza, cioè con cose che non mi servivano, ma che in realtà mi rendono molto felice, io credo di aver trovato la mia pace con l'IRCAF. Non so se lo sapete, ma io praticamente sono diventata dipendente dall'IRCAF nell'ultimo anno, un tipo di gioiello che io non avevo mai calcolato, sinceramente totalmente fuori dai miei radar, poi ho iniziato ad averne qualcuno e adesso io non lascio casa mia se non li indosso. Adesso credo di aver trovato il placement giusto, per cui ho le orecchie complete, cioè non ci stanno più altri IRCAF sulle mie orecchie, ma sono felicissima di come appaiono ed è la combo che indosso tutti i giorni. Direi di partire da questo orecchio qui, dove ho tre IRCAF di tre brand diversi. Dall'alto abbiamo Ana Luisa, Happiness Boutique è pure lei, sono tutti e tre IRCAF in argento placcato oro, mentre da questo lato abbiamo invece tutti IRCAF di Happiness Boutique, argento placcato oro, mentre questi due sotto sono argento placcato oro con zirconi. Sapete che mi piacciono un sacco? Cioè io uso solo loro, mi alzo al mattino, li metto, non ci dormo, perché comunque tanti IRCAF per dormire sono un po' scomodi, specialmente se come me dormite sul fianco, ma io sono ok, cioè non ne desidero più altri, sto benissimo, così vanno benissimo con tutto il resto di gioielli che indosso, boh, si rendono bene, questa era proprio una cosa da first world problems. Non avere ancora gli IRCAF perfetti, la combo di IRCAF perfetti, io per uno strano scherzo del destino sono riuscita a dare ordine alla mia moglie di IRCAF e mi andava di parlarvene. Vettori, questo video è finito, io spero tantissimo che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti tutto quello che vi va e vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima.